Musica Incontriamo in questa occasione Aldo Caranta che è il rappresentante provinciale degli autotrasportatori aderenti a Confartigianato Imprese Cuneo per parlare di alcuni argomenti fondamentali, nodi irrisolti per la categoria spesso flagellata degli autotrasportatori che continuano a trascinarsi anche in questo 2014. La prima questione importantissima e di grande attualità è l'apertura del valico internazionale del Colle della Maddalena. Ora è stato riaperto, è stato chiuso per tantissimi giorni specialmente nel periodo da Natale in poi, questo ha comportato pesanti danni per la vostra categoria. Qual è la vostra valutazione in merito e qual è la vostra ipotetica soluzione per risolvere finalmente una volta per tutte il problema della Maddalena d'inverno con la neve e con le valanghe? Come tutti gli inverni questo problema si ripropone, quindi la categoria subisce sempre dei danni, causa questa chiusura del Colle. Quest'anno poi è stata veramente una cosa, diciamo pure vergognosa, perché si è chiuso niente meno che più di 20 giorni. E questo ha comportato per la nostra categoria dei costi aggiuntivi per fare percorsi alternativi, quindi sia per raggiungere la Francia, quindi molte spese in più rispetto al normale tragitto che potrebbe fare Colle della Maddalena. Noi questa situazione è da anni che chiediamo che venga risolta, perché non è possibile che un valico internazionale sia chiuso facilmente così, quindi o si fanno investimenti, altrimenti la situazione non sarà mai risolta. L'ipotesi potrebbe essere quella di un tunnel, ad esempio, di ampi paravalanghe che riescano a risolvere in parte la situazione, ad esempio. Certo, perché poi il tragitto molto pericoloso non è che sia tanto lungo, quindi la soluzione, secondo me, se c'è la volontà politica e anche la volontà di fare investimenti, si potrebbe risolvere con paravalanghe oppure con tunnel e quindi si risolverebbe la questione, perché poi è un passaggio molto, per la provincia di Cuneo, obbligato, diciamo, per il trasporto internazionale, quindi dovrebbe essere risolto. Noi già da anni che lo chiediamo, solo che questa situazione tutti gli anni si ripete. E quindi chi è la colpa di queste chiusure continue della burocrazia, dello Stato, della politica? Ma la colpa è della burocrazia, perché uno dà la colpa all'altro. Comunque la colpa quest'anno, per esempio, è stata perché non erano stati pagati, diciamo, le valutazioni per quelli che fanno valutazione a rischio valanga, quindi non hanno più fatto la valutazione, l'ANES senza quella cosa non ha potuto aprire la strada, quindi proprio per una burocrazia si è perso 20 giorni, diciamo, di passaggi che per noi sono molto importanti. E anche per la vallata, diciamo, pure per il turismo inverno, anche per la gente che viene a sciare, quindi i francesi che ci raggiungevano, è un danno anche per la vallata stessa. Una conclusione sul tema della Maddalena. Intanto, quali strade alternative dovete fare, siete obbligati a fare quando è chiuso il Maddalena? Ma la strada più possibile, diciamo, è quella di fare 20 miglia di autostrada ed è anche la più lunga. Poi c'è il Tende che però è molto limitato, oppure fare altri valici come il Freio sul Monte Bianco. Comunque, sono costi molto, perché per un'azienda che, non so, è di Borgo San Dalmazzo, Cuneo, De Monte, deve totalmente fare dei giri esagerati. Quindi è un danno enorme per la categoria, la chiusura del Tende, ricorda Maddalena. Passiamo ad un altro argomento, direttamente correlato, poi se vogliamo, perché parliamo sempre di trasporto, cioè i pedaggi autostradali. Ogni anno rincarano, però non danno garanzie a questi pedaggi, cioè non ci sono degli adeguamenti delle strade. Ma i pedaggi quest'anno hanno di nuovo aumentato, si parte dal 0,97 al 5,27% della Torino-Milano, quindi che è una cifra esagerata, perché se pensiamo che quell'autostrada è lo sbocco per, diciamo, per il Piemonte andare in Lombardia e c'è un passaggio esagerato di automezzi, ma anche di pendolari, quindi un rincario esagerato. Senza che poi la rete sia migliorata, perché poi abbiamo ancora delle strozzature nella Torino-Milano a due corsie, quindi anche qua con code esagerate. Senza contare l'asticunio che aumenta, ma non da servizi, perché è un'autostrada monca, almeno per il momento. L'asticunio è stata fatta lì tutti a pezzettini, quindi molta gente non la utilizza proprio per niente, perché tanto bisogna entrare, poi uscire dopo pochi chilometri, quindi questa situazione non so cosa aspettano a risolvere, a fare almeno la parte di Alba, che sarebbe importantissima, perché è la strozzatura che ci fa in modo che nessuno usi questa autostrada. E quindi almeno quella parte lì, solo che ci dicono che non ci sono soldi, quindi questa parte sembra che non vada all'infinito per essere costruita. Quindi non sappiamo... Per noi comunque sono sempre grane, perché bisogna sempre farla normale, con code, rincari e tutto. Un altro argomento ancora è quello relativo all'accise, una lunga battaglia, una lotta che avete fatto dal punto di vista sindacale come confartigianato. C'è stato il fermo, sono state minacciate altre proteste, altri fermi. Insomma, qual è adesso la situazione aggiornata sul tema dell'accise? L'accise noi abbiamo, grazie proprio per aver proclamato un fermo, noi siamo riusciti a ottenere dal governo che questa legge, che la legge di stabilità aveva tagliato questi rimborsi dell'accise, si siano stati ridati. Dobbiamo precisare che questa accise non è un aiuto di Stato, ma è bensì un rimborso di soldi che noi abbiamo già dato prima. Perché dobbiamo pensare che in Europa, l'Italia, ogni mille litri di gasolio, noi spendiamo 617 euro di accise, mentre in certi stati europei spendono 350 ogni mille litri. Quindi capisce che la concorrenza degli altri paesi possono farci concorrenza facilmente. I costi sono molto più limitati. Addirittura dimezzati, direi. Quindi questo rimborso di accise è una cosa che ci è dovuto, non è un aiuto di Stato, ma una cosa che sono soldi che noi abbiamo anticipato, diciamo, comprando il gasolio, quindi ci è restituito con l'accise. E questa cosa si era tagliata, era un danno enorme per le aziende, già in crisi da anni, e quindi era un danno. Questa cosa comunque il governo l'ha capita e noi siamo riusciti a ottenere ancora che l'accise si sia rimborsata a tutto, quindi è una vittoria delle associazioni su questa faccenda. Chiudiamo con un augurio per la vostra categoria nel 2014 che, insomma, riesca almeno in parte a risolvere alcuni problemi. Ma io farei proprio un augurio ai miei colleghi che il 2014 sia migliore, diciamo, del 2013, che c'è stata molta crisi, quindi molte aziende hanno chiuso, il lavoro è diminuito. Sembra che nell'ultimo mese, negli ultimi due mesi dell'anno, ci sia stato un lieve aumento, diciamo, dei trasporti. Quindi noi speriamo che il 2014 sia migliore, io glielo auguro a tutti i miei colleghi, quelli che sono rimasti, che hanno avuto il coraggio di investire proprio anche soldi propri per riuscire a mantenere viva la loro azienda. Quindi faccio un augurio veramente di buon anno a tutti i miei colleghi e di proseguire a lavorare e riuscire soprattutto a avere lavoro e essere pagati. Confartigianato Cuneo, convenzionata con studi dentistici Riva Rossa Team.